Un evento storico dal punto di vista economico, ma anche un taglio innovativo per la fiera d'ottobre, che giunge alla sua 280esima edizione. Presentato il programma a Palazzo Ducale, a Larino. Un evento immancabile, che rappresenta un connubio tra tradizione e storia. Una fiera di artigianato, commercio, agricoltura e agroalimentare. L'appuntamento per quest'anno è per giovedì 12 ottobre, con un giorno in meno rispetto alle altre edizioni, e con un cambio radicale, da fiera campionaria a fiera innovativa ed enogastronomica. E già dal prossimo anno si potrà pensare di utilizzare le tematiche più antiche e valorizzarle, così da promuovere anche il territorio dal punto di vista turistico. Quest'anno, anche se abbiamo avuto poco tempo, abbiamo cercato in tutti i modi di cominciare a dare un taglio innovativo alla nostra fiera d'ottobre. Abbiamo innanzitutto pensato di organizzare un fuorifiera, grazie al dottor Barone, che deve essere un momento di riflessione per stabilire, verificare qual è la direzione che deve prendere la fiera. Vogliamo partire dalle radici, da questa lunga tradizione e ricontestualizzarla in quelli che sono i tempi di oggi. Siamo diretti a riformare questo brand, a costruire un brand attualizzato ad oggi. Di sicuro, partendo dal fuorifiera, in termini di comunicazione, vogliamo ricostruire, costruire un'immagine, una vetrina importante per l'imprenditore, una vetrina interessante per l'espositore. Si è centralizzato tutto intorno all'impresa e a questo è dovuta anche la diminuzione delle giornate. Si è voluto andare incontro alle imprese perché sono loro i veri attori di questa fiera. Senza impresa non c'è fiera. Quando ci ha contattato il sindaco Pucchetti e l'assessore, ci ha proposto un progetto, un programma che è diverso rispetto a quello che era stato fatto fino agli anni precedenti. E quindi non sarà più una fiera campionaria e generale, ma sarà focalizzata su alcuni temi che per noi come Camere di Commercio, per il territorio, per l'impresa, per il Molise e per il territorio di Larino sono temi fondamentali. Da quest'anno ci sarà anche la novità del fuorifiera, in collaborazione con il Festival del Sarà, un format di dialoghi e un dibattito tra le istituzioni e le imprese e un anello di congiunzione nel rapporto con il territorio, oltre che l'obiettivo di giungere nei prossimi vent'anni ad una nuova missione innovativa.